1 a 1 tra Chiaravalle e Eurogiri Falco nella partita del campionato di prima categoria Girone C. Un risultato che probabilmente serve poco ad entrambe. Al Chiaravalle che in pratica si vede scavalcare oggi dalla Monasterace al quinto e ultimo posto e quindi ricchia davvero di dover fare i play-out per quanto riguarda la posizione in classifica. All'Eurogiri Falco ancora di meno perché questo punticino arriva a 40 punti e adesso avrebbe addirittura 18 punti di distacco dalla terza quindi sarebbe anche difficile inserirsi nella zona play-off. Una partita difficile che probabilmente ha risentito anche delle vicissitudini della gara di andata nervosismo in campo, sugli spalti. Il Chiaravalle era stato bravo nel primo tempo ad ottenere il gol del vantaggio con Giozzo, probabilmente anche partito in una sospetta posizione di fuorigioco, però fatto sta che è stata bella poi la conclusione del centroavante Chiaravallese che ha portato in vantaggio la propria compagine. squadre sfaldate, si è risentito anche dei primi caldi della giornata, effettivamente c'è stato poco gioco. L'Eurogiri Falco nel secondo tempo è stato bravo ad ottenere il pareggio con una grandissima punizione di Quirino che alla fine ha portato la propria compagine in parità e poi alla fine dovendo giocare anche in dieci uomini per l'espulsione di un giocatore dell'Eurogiri Falco la gara ha vissuto soltanto sui tentativi della Chiaravalle che tentava appunto di riportarsi in vantaggio. Non ci è riuscito e quindi il risultato finale è rimasto quello di parità. Dicevamo una partita che probabilmente frena entrambe le compagine. Da segnalare purtroppo che anche a fine gara c'è stata qualche discussione di troppo. Proprio in una giornata come questa che ha vissuto nel ricordo del giocatore della Fiorentina Davide Astore, questo qui non ci sarebbe, non sarebbe servito certamente. Non fa bene al calcio, non fa bene a nessuno. Speriamo che tutto quanto possa rasserenarsi nel prosieguo del campionato.